Come posare una parete doccia su una vasca da bagno, livello di difficoltà, un martello. Vogliamo trasformare la nostra vasca in una comoda doccia? Ecco la soluzione. Possiamo posare una parete doccia. Abbiamo bisogno di parete doccia, cartuccia di silicone, viti e tasselli per cemento. Dobbiamo avere a portata di mano metro, matita, livella a bolla, trapano a percussione, cacciavite e pistola per silicone. Per quasi tutti i modelli dobbiamo staccare il profilo guida che sostiene la struttura della parete doccia. Accertiamoci della perfetta verticalità del profilo e segniamo la sede dei tasselli da fissare nel muro. Per forare le piastrelle, mettiamo del nastro adesivo sui punti da forare per evitare che la punta del trapano possa spostarsi. Foriamo le piastrelle e il muro con una punta da trapano per cemento, selezionando la potenza minima. Una volta forata la piastrella, possiamo inserire la modalità a percussione e aumentare la velocità. Posizioniamo i tasselli nei fori e quindi fissiamo con le viti. Se il muro sopra la vasca è in parte piastrellato, compensiamo con degli spessori il dislivello tra il muro e le piastrelle. Inseriamo la parete doccia nel profilo guida sul muro. Avvitiamo le viti di fissaggio laterali senza tirarle del tutto, in modo da poter regolare la posizione. La parete doccia può entrare più o meno nel profilo per poter recuperare un eventuale fuorisquadra. Posizioniamo uno spessore sotto la parete per compensare la differenza in altezza durante il fissaggio. Quando la parte inferiore della parete è a filo della vasca, seriamo le viti e applichiamo gli appositi coprivite. Facciamo scorrere sotto il vetro la guarnizione fornita nel kit. Per garantire la tenuta all'acqua, sigilliamo il bordo di contatto del binario guida con il muro su ogni lato con un po' di silicone per sanitario antimuffa, quindi lisciamo. In base ai modelli, fissiamo il portasalviette alla fine del montaggio. Prima di utilizzare la vasca, aspettiamo 24 ore, in modo che il silicone si indurisca.